Dopo la notifica di Eurostat, questa convalida quello che dice la Commissione da mesi, ovvero che l'economia greca resiste alle turbulenze per quanto riguarda il saldo primario 2016, dovrebbe essere 4,2% del PIL. La Grecia quindi supera l'obiettivo 0,5% fissato, 9 volte più alto, 9 volte meglio. Naturalmente ci sono discussioni in corso con le autorità di Atene, ma i risultati raggiunti sono lodevoli. 1,75% nel 2017 e 3,5% di eccedenza del PIL nel 2018. Questo è frutto di un pacchetto di consigliamento di bilancio che comprende misure parametriche di qualità dotate nel 2015-2016 e bisogna essere consapevoli delle cifre del 4,5% del PIL. Uno sforzo che non può essere trascurato, deve essere consolidato e approfondito. Queste sono le buone notizie, però non possiamo essere autocompiacenti sulla situazione economica e sociale della Grecia. Le tendenze positive osservate nel 2016 sembrano rallentare in questo momento, soprattutto per il ritardo del secondo riesame del programma. La disoccupazione è inaccettabile, soprattutto tra i giovani. Gli investimenti devono essere rilanciati per sostenere la crescita. La Grecia non può permettersi di perdere lo slancio del 2016.